Non voglio vivere in un paese che non ha aiutato figli e sinceramente non voglio nemmeno andare fuori. Vorrei poter vivere nel mio paese tranquillamente. E però so che se passa il C, non avrò questa opportunità, come tanti studenti come me. Un po' no, un po' no! Ho questa storia che non voglio vivere in un paese che non ha aiutato figli e sinceramente non voglio nemmeno andare fuori. Vorrei poter vivere nel mio paese tranquillamente. E però so che se passa il C, non avrò questa opportunità, come tanti studenti come me. E se noi, in questo dicendo, questi non vogliono a casa, se vogliono a casa con il nostro oro, o se vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa. E se non vogliono a casa con il nostro oro, o se vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa. E se non vogliono a casa con il nostro oro, o se vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa. E se non vogliono a casa con il nostro oro, o se vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa con la nostra razza. E se non vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa con la nostra razza. E se non vogliono a casa con la nostra razza, ma di sicuro non vogliono a casa con la nostra razza. E se non vogliono a casa con la nostra razza... E se non vogliono a casa con la nostra razza... E se non vogliono a casa con la nostra razza. ...e che scendieranno il 27 novembre a Roma con il suo beach in una gran volontà nazionale. Ho pensato che non voglio vivere in un paese che non aiuta lo figlio e che sinceramente non voglio nemmeno andare fuori. Vorrei poter vivere nel mio paese tranquillamente e però so che se basta il sì non avrò questa opportunità come tanti studenti come me. Sì, perché noi il 14 dicendo, questi non vengono a casa, non vengono a casa, non vengono a casa, non vengono a casa, non vengono a casa. Il 4 dicembre il suo governo vale. Noi il 14 dicendo, questi non vengono a casa, 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 non vengono a casa. Il 4 dicembre il suo governo cade.